Buongiorno, buon primo aprile, primo giorno di semilibertà, anche se per recuperare la serenità tutta intera dobbiamo ancora aspettare e sperare che lì dove la guerra turba le coscienze e la vita degli uomini subentri la responsabilità e il buonsenso e quindi arrivino segni di pace, come questo di oggi è un segno di speranza e di pace, perché siamo qui all'Argentina per l'inaugurazione dell'anno accademico 21-22 dell'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica Silvio D'Amico e per la consegna dei diplomi agli allievi che hanno completato il loro ciclo di studi. Quindi una cerimonia di apertura alla vita, a quello che auguriamo sia il successo di questi ragazzi dopo l'impegno dello studio e quindi un segno che ridà serenità e che ci consente di far festa a questi ragazzi che lo meritano anche in un momento di turbamento delle coscienze di tutto il mondo. Siamo per la prima volta all'Argentina perché per la prima volta la Ministra dell'Università della Ricerca, Maria Cristina Messa, che è presente in sala e che ringrazio, consegnerà i diplomi non solo agli allievi dei corsi triennali ma anche a quelli del primo corso di laurea magistrale per la prima volta nella storia dell'Accademia Silvio D'Amico. Quindi i primi laureati, un evento importante, ci voleva un luogo straordinario, un luogo fuori del comune che avesse un valore, un significato simbolico e augurale per i ragazzi che premiamo. E siamo qui all'Argentina. Il primo teatro di Roma, che ringrazio per l'ospitalità, è stato inaugurato nel 1732 ma ha conservato la sua configurazione iniziale, a parte la facciata degli architetti Oll e Corsen, così come l'aveva disegnata l'architetto Giacomo Teodoli e ha conservato anche nel restauro curato da Paolo Portovesi nel 1993 la sua configurazione iniziale, compreso il fascino di questa sala straordinaria con quei palchetti che Marcel Proust definì piccoli salotti sospesi. Ma qui all'Argentina, dove arriviamo per la prima volta, noi ci portiamo tutti i ricordi, il bagaglio di storie, di arte, di tradizioni del piccolo teatro di Via Vittoria, lì dove l'Accademia è nata e dove fino a oggi sono stati sempre premiati ogni anno gli allievi che concludevano i corsi. È un piccolo teatro, dalle volte altissime, dalla pianta a forma di croce, perché era una chiesa, una chiesa annessa a un convento di monache in un austero, vecchio, antico edificio della vecchia Roma. Quel convento divenne la sede dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, dove tante generazioni hanno imparato e ancora fortunatamente imparano a suonare il pianoforte, il violino o tanti altri strumenti. E lì, presso l'Accademia di Santa Cecilia, fu accolta la prima scuola di recitazione e quella chiesa divenne scuola e teatro e la sede della scuola di recitazione che fu intitolata a Eleonora Duce. In quella scuola, negli anni venti del novecento, arrivò a insegnare storia del teatro per la prima volta il giovanissimo professor Tiglio D'Amico, che poi quella scuola amò tanto che ne fu commissario straordinario, la riformò e su quella che era stata la scuola Eleonora Duce nacque nel 1935 l'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica, una di queste grandi istituzioni affidata al nome mitico di chi l'ha fondata, che era diventato nel frattempo il personaggio guida spirituale del teatro italiano, il padre, come tanti lo consideravano, del teatro italiano. E lì, nel suo nome e nel ricordo di quella scuola, abbiamo sempre consegnato i diplomi. Questa volta siamo venuti nella vastità dell'Argentina, nella maestà dell'Argentina, ma voi ragazzi non vi montate la testa, perché il diploma è sempre quello, il diploma importante, perché è vero che nel piccolo teatro di Via Vittoria conserviamo i ricordi e le voci di tanti attori che vi hanno preceduto. Abbiamo visto prima scorrere sullo schermo una carrellata di visi noti, famosi, amati dal pubblico, che erano tutti ragazzi come voi, quando frequentavano come voi avete frequentato in questi anni l'Accademia. E lì, in quel teatrino, noi conserviamo la voce forte di Gabriele Lavia, il falsetto artificioso di Carmelo Bene, la sapiente nasalità di Vittorio Gassman, il tono basso di Harold Dutieri e ancora, indietro nel tempo, l'avete vista sullo schermo, l'accento romanesco di Anna Magnani, il taglio appena strascicato di Paolo Stoppa, il nitore della parlata di Sergio Tofano. Sentite, ragazzi, come Tofano ricorda il suo arrivo all'Accademia. Ho cominciato facendo gli esami con un testo di Goldoni, facevo pantalone nella famiglia dell'Antiquario, fui accolto dalla commissione della quale faceva parte già d'amico ed ero in suggezione. Tra gli allievi trovai Anna Magnani, che poi si è divertita spesso a dire di essere stata allieva dell'Accademia, in realtà aveva studiato alla scuola e le non raduse, ma diceva quella piccola bugia per calarsi gli anni, perché se si facevano i conti della scuola diventata Accademia e risalendo indietro si capiva la sua età. Ecco, in quel piccolo teatro questa tradizione abbiamo coltivato e conservato. Oggi usciamo alla Maestà dell'Argentina, dicevo prima, perché la Ministra dell'Università vi consegnerà tra poco i diplomi. Il diploma, dicevo, è sempre lo stesso, è la certificazione del compimento di un ciclo di studi, del conseguimento di una abilitazione professionale, questo è il significato oggi del diploma. Ma nell'Antica Roma, e qui parlare di Antica Roma conviene perché questo teatro è nato nei pressi della Curia Pompei, lì dove fu ucciso Giulio Cesare, qui la storia di Roma si sente tutta, e nell'Antica Roma il diploma era un documento molto più solenne e anche molto più pesante. Erano due tavolette di bronzo unite a dittico che recavano un proclama speciale per un congedo militare o per un salvacondotto speciale. Ecco, voi prendetelo come un congedo dalla scuola, che come dicono tanti degli allievi che l'hanno frequentata, si lascia, ma dove è sempre un piacere tornare. Quindi voi la lasciate, ma per tornare, da docenti o da amici della Fondazione. E prendetelo come il salvacondotto per il palcoscenico e per il successo che tutta questa sala oggi, con le autorità, con tanti uomini di teatro presenti in sala vicino alla Ministra, vi augurano. E ce n'è uno tra tutti che è il più amato il più celebre di tutti noi, anche di voi ragazzi, che non avete avuto il privilegio di scorrere la vostra vita con le sue canzoni. Ed è Mogol al quale voglio dedicare un saluto affettuoso e grato. Vi accompagna perciò, ragazzi, l'augurio di tutti i presenti e di tutti quelli che hanno seguito i vostri corsi. A cominciare dal direttore dell'Accademia, Francesco Pontetti, Manetti, che ringrazio, e da Daniela Bortignone, che è stata la direttrice dei vostri corsi, perché adesso è entrata in Consiglio di Amministrazione, ma negli ultimi anni è stato l'angelo custode, il motore, l'apostolo della scuola, una persona straordinaria alla quale certamente voi dovete molto, perché la sua voce, il suo incoraggiamento, il suo sostegno, la sua sensibilità, la sua dedizione ha certamente fatto la scuola degli ultimi anni qualcosa di straordinariamente bello e particolare. E anche negli anni della pandemia, rispettando sempre le regole e i protocolli, è riuscita a non chiedere la scuola, è riuscita a non farvi perdere i corsi. È stata una persona straordinaria che, alla quale tutti dobbiamo essere sinceramente riconoscenti. Oggi la sua voce si avvicina a quella di tanti ex allievi dell'Accademia diventati famosi, che io spero vi accompagnino con quel salvacondotto per il palcoscenico e per il successo. Fare l'attore, diceva Edoardo, significa vivere sul serio quello che gli altri nella vita recitano male. E quando fu nominato senatore a vita, entrando al Senato, disse non chiamatemi senatore, ci ho messo una vita a diventare Edoardo. Perché, come dice Orazio Costa, che all'Accademia tanto ha dato, e che avete visto poco fa sullo schermo, essere attori è qualcosa di più. Perché l'attore è quello che ci mette la faccia. È quello che è forzato a dire il meglio di ciò che è in questa stagione dell'uomo, l'uomo può dire. Eroldo Tieri, altro mitico personaggio del nostro teatro, non si può essere attori senza essere colti e senza assorbire la vita nella sua totalità, anche immaginaria, essere insomma aperti, curiosi, disponibili, sensibili all'esistere, essere liberi. E ecco perché mi piace concludere in maniera quasi scherzosa citando un altro mitico personaggio del teatro italiano, che certamente avete incontrato durante i vostri studi, che certamente incontrerete più volte nella vostra vita artistica sui palcoscenici. Giuseppe Padroni Grissi. Lui diceva, non si può pretendere da una scatola di acciughe salate, per quanto buona essa sia, al momento che la apri, di ricevere la stessa emozione di quando le sardine le vedi guizzare sotto il pelo dell'acqua. Ecco, quelle vive sono il teatro, quelle salate sono la tv e il resto. Ecco, io penso che con questa immagine bella di queste sardine che sguizzano nell'aria, nella loro libertà, voi andate incontro alla vita e vi auguriamo tutti noi, dalla Ministra Messa a tutti e tanti i personaggi di tanti teatri italiani che vedo in sala, a cominciare dal Festival Roma Europa, il dottor Grifasi e il presidente Fabiani, che ringrazio, vi accompagneranno e saranno e potranno segnare altrettante tappe del vostro successo. Auguri ragazzi e adesso cingetevi a ricevere il diploma. Grazie. Io mi associo ai ringraziamenti del presidente, personalmente ringrazio il presidente perché in questi mesi ho potuto verificare da vicino la sua passione, l'impegno, la dedizione per la nostra istituzione e non per ultimo anche l'eleganza con cui tutto questo si manifesta. Ai suoi ringraziamenti vedo in sala anche, se non sbaglio, sì esattamente, Alessandro Fioroni che vorrei ringraziare perché l'Accademia da un paio di anni ha cominciato una collaborazione forte con il Globe che permette ai nostri allievi di mostrare i loro lavori in un teatro meraviglioso, questo direi che è il più grande esempio di teatro al chiuso, ma un teatro all'aperto meraviglioso che è il Globe Theater di Villa Borghese, intitolato a Silvano Toti e a Gigi Proietti e vorrei ringraziare insieme Alessandro, anche naturalmente Susanna e Carlotta Proietti, le figlie di Gigi che adesso hanno la direzione artistica. Ringrazio il Teatro di Roma che ci ospita e con cui nei prossimi mesi avremo degli appuntamenti che magari nel corso della cerimonia verranno fuori. Mi associo a ringraziamento naturalmente Mogol che è qui con noi come rappresentante della CIA e con cui abbiamo un contatto stretto da molti anni, naturalmente la ministra Messa che dimostra sempre una vicinanza particolare al comparto AFAM e alla nostra Accademia. E la gioia più grande naturalmente è vedere i nostri allievi tutti qua riuniti e da ormai più di due anni non vedevamo. Forse non tutti. Non tutti, non tutti qualcuno è in tournée, qualcuno è in quarantena come succede in questo periodo, però vederne tanti tutti riuniti in una sola sala è molto bello. Termino qui, Presidente, se vogliamo invitare il ministro Messa a salire per dire due parole e consegnare i diplomi. Grazie. Bene, buongiorno a tutti, grazie. Sono molto contenta di essere qua per tanti motivi. Innanzitutto saluto il Presidente Gianni Letta, è un piacere sentirla sempre, Presidente. Ha una, dicevamo con Mogol, ha una capacità, una cultura da trasferire a tutti noi che ci sorprende sempre e continua a sorprenderci. e saluto ovviamente il Direttore, saluto tutti gli ospiti in sala e saluto le studentesse, gli studenti, anzi oramai diplomati e tutti i giovani che hanno frequentato questa Accademia. Perché sono particolarmente ieta? Perché credo che ovviamente il mondo della formazione, in cui come potete immaginare io credo moltissimo, perché penso che in qualsiasi cosa vogliamo cimentarci, in qualsiasi cosa, qualsiasi futuro vogliamo dare alle nuove generazioni, non si può prescindere dalla formazione, non si può prescindere da un periodo della vita in cui si studia, si impara, si frequenta. E questo ha questo grosso forza della formazione nel mondo dell'arte, adesso non parliamo in generale di AFAM, ma oggi parliamo di arte drammatica, parliamo di attrici, attori, registi. Nel mondo dell'arte assumono una forza maggiore, perché in camera la forza che l'arte ha. È una forza che abbiamo sicuramente rivalutato anche nell'epoca pandemica, dove dicevamo essere qua oggi può sembrare oramai quasi normale, io lo spero, ma dico sempre che la pandemia ha portato valore alla scienza, ma la pandemia ha portato valore tantissimo allo stare insieme e appunto al teatro, perché quanto c'è mancato, diciamocelo, c'è mancato tantissimo. E perché c'è mancato tanto? Perché è un'espressione, un'espressione alta dei nostri valori, dello scritto, del pensiero, è un'espressione che mantiene in sé due caratteristiche fondamentali, che sono la libertà, la libertà di pensiero, qualsiasi formazione deve portare alla capacità di avere un giudizio critico e una propria capacità di pensiero, la libertà di azione che ha durante il teatro e il coraggio. Vorrei aggiungere questa parola, il coraggio perché attraverso il teatro, attraverso quello che avete imparato in questi anni, avete sicuramente acquisito anche il coraggio, il coraggio che scrittura e recitazione possono sperimentare e di cui abbiamo molto bisogno. Queste sono le due parole di cui abbiamo particolarmente bisogno oggi in un momento così tragico e sicuramente il teatro può dire tanto di questo. Il Ministero si sta impegnando molto nel fare in modo che questo mondo AFAM non sia né la scuola né l'università, ma abbia una propria linea, un proprio percorso che dalla università deve prendere l'autonomia, l'indipendenza, la capacità di sapersi organizzare, la capacità di scegliere i propri docenti in maniera evidente, in maniera trasparente, il finanziamento che è necessario per poter portare avanti questi studi. Deve però anche mantenere la propria libertà nella creatività, perché a volte con le regole che mettiamo e che dobbiamo mettere distruggiamo, sopprimiamo un pochino la creatività e quindi questo per me è il messaggio più forte che vi voglio dare. Non bisogna mai interrompere la creatività, bisogna trovare i metodi migliori per renderla più forte e per farne un grande patrimonio del nostro Paese quale essa è. E quindi ai ragazzi io auguro di avere un grande successo e di tenere sempre, come ha detto anche il Presidente Letta, un legame con il loro periodo di formazione, perché questo è un legame che vi durerà tutta la vita. Auguri. Grazie Ministro. Io credo che con il diploma i ragazzi porteranno via il ricordo di queste bellissime parole che saranno per loro stimolo, incoraggiamento e sostegno nei momenti difficili della vita e in quelli belli e noi gli auguriamo che quelli belli siano molti di più di quelli difficili. E allora possiamo cominciare con la cerimonia della consegna dei diplomi. Signor Ministro, se vuole fare un passo più avanti. Cominciamo con i ragazzi del triennio di regia e di recitazione che si sono diplomati con Hotel Goldoni, un trittico da Goldoni, la locandiera, il servitore di due padroni e la moglie saggia diretti da Antonio Latella. E poi il biegno di recitazione e regia che si è diplomato con la partecipazione in questo bellissimo teatro allo spettacolo Amleto diretto da Giorgio Barberio Corsetti che vedo in sala. Prego, che entrino i ragazzi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Eccoli qua. Adesso li chiamerò uno per uno per nome e verrete a prendere il vostro diploma dalle mani della Ministra Messa. Per il triennio di recitazione, Giuseppe Benvegna. Buon'uomo Annabella. Buon'uomo Annabella. D'Antoni Flavio. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Augie Emma. Longo Riccardo. Mantova Irene. Marone Filippo. Martone Valentina. Pestilli Gabriele. Pestilli Gabriele. Sani Edoardo. Sani Edoardo. Sessic Giulia. Trombetta Sabatino. E per il triennio di regia, lo bianco Antonietta. Per noi, Antonella. Per il bianco in recitazione, Jacopo Nestori. Eleonora Pace. E per il bianco di regia, Tommaso Capodanno. Ministro, mi permette di fare un saluto per i ragazzi che non sono qui oggi a ritirare il diploma, che forse ci stanno seguendo in diretta streaming. Alcuni sono in quarantena, naturalmente, perché ancora il Covid è su di noi. E alcuni invece sono fortunatamente in tournée o in preparazione di spettacoli che hanno cominciato la loro carriera. Gli facciamo un saluto, sono Alessandra Arcangeli, Maria Chiara Arrighini, Matilde Bernardi, Francesco Brullo, Chiara Ferrara, Irene Mantova. No, Irene Mantova l'ho vista, era qua. Hanno sbagliato a scrivere. Nisi Michele, Nicola Panetta, Guido Quaglione, Francesca Somma, Marco Corsucci, Francesca Florio, Adriano Exacustos, Diego Giangrasso e Zoe Zolferino. Grazie. Grazie. Avrei per i ragazzi del triennio di recitazione una piccola lettera dal maestro Antonio Latella, che è a Berlino e non può essere qui con noi, e ha mandato un piccolo messaggio per i suoi allievi diplomati. Se volete lo leggo. Ci proverò. Cari ragazzi, grazie per tutto quello che mi avete regalato. Grazie a Daniela e a Francesco, che mi hanno scelto perché vi accompagnassi al mondo del professionismo. Voi siete il futuro. Voi siete il teatro del domani. E quindi voi siete anche i nostri testimoni. Questa è l'arte della memoria e grazie a voi sarà custodita. Mi unisco all'applauso che in questo giorno della consegna dei diplomi tutti vi faranno. E lo faccio con stima e con orgoglio. Antonio. Il maestro Corsetti, se vuole dire due parole. Ci sarebbe anche un saluto, se Giorgio Barberio Corsetti vuole accomodarsi con noi, per salutare invece i ragazzi che lui ha diplomato in questo meraviglioso teatro con Amleto. Lo vorrei staccare, ma non si stacca. Visto da qua fa una certa impressione sempre. Non riesco a stare fermo in un posto. Dunque, di Amleto si tratta, per cui la cosa più normale sarebbe che io mi mettessi a fare il pazzo davanti alla corte. Ma invece vorrei ricordare l'entusiasmo e il piacere con cui gli allievi del Bienio si sono uniti a noi, alla nostra compagnia, per raccontare una storia che in fondo è l'essenza stessa, il cuore stesso del teatro. La storia di Amleto, che grazie al teatro con gli attori svela l'enigma segreto, svela il segreto, il rimosso, tutto quello che non si poteva dire. L'omicidio, il crimine che è alle origini stesse del potere. È il teatro che può fare questo. È il teatro che può al mondo raccontare tutto ciò che di nascosto e di rimosso c'è. Tutto l'indicibile. Il teatro può dire tutto ciò che non si può dire altrove. Il teatro può far vedere l'invisibile. Infatti, in Amleto, finalmente, vediamo arrivare il fantasma del padre. Tutto quel fantasma che ognuno di noi si porta e che improvvisamente prende vita e corpo. E la meraviglia è stata che i commedianti che arrivano al sinore, coloro che permettono questa rivelazione, erano proprio i giovani attori del biennio. E quindi, gli avvertimenti che Amleto fa ai commedianti, gli insegnamenti che dà di sobrietà, di verità, di nessun eccesso, ma di una presenza forte, arrivavano diretti al cuore dei vostri colleghi. Ha una lunga storia questa del biennio. Nasce in un viaggio in treno che io stavo facendo da Parigi a Vignone e ricevetti una telefonata da Daniela Bortignone che mi diceva se volevo prendere come assistente uno dei registi appena diplomati. E poi mi disse, poi ci inventeremo delle altre cose insieme. Da lì è nata una collaborazione, una complicità bellissima di cui sono molto grato a Daniela e che è sfociata con la possibilità di lavorare col biennio da parte del Teatro di Roma. E spero che diventi un'abitudine. Quando stavo alla Comédie Francese a Parigi, nell'insieme degli attori della Comédie, c'erano sei attori che venivano da tutte le scuole diplomati, che venivano da tutte le scuole di Francia e che facciano parte dell'ensemble in maniera molto naturale e diretta. Spero che questo possa diventare un'abitudine del teatro. E ricordo che abbiamo partecipato anche agli spettacoli estivi al Globe. È stato uno dei tanti modi di collaborare con l'Accademia. Grazie. Abbiamo purtroppo finito. Grazie a tutti, auguri ai ragazzi, grazie Ministra e grazie ai tanti rappresentanti di tanti teatri italiani. Grazie e molti auguri. Grazie Presidente. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.